Sempre preziosissima Sonia Paglialunga, buonasera Sonia, consulente del lavoro, amica di Primo Canale che ci ha aiutato tante volte a districarci nei meandri delle faccende complesse del fisco italiano. Possiamo dire che questa è una buona notizia per tutti coloro che sono in attesa di risolvere dei guai che hanno con il fisco, non stiamo parlando di evasori, stiamo parlando di persone che hanno dichiarato le loro cose ma non hanno pagato, non sono riuscite a pagare, hanno avuto per questo una serie di aumenti, di moltiplicazioni delle cifre da pagare, adesso la rottamazione riporta le cose più o meno alla situazione originale. Esattamente così, perché questa rottamazione prevede la possibilità di pagare le cartelle esattoriali che sono giacenti e vedremo poi quali sono i contorni all'interno del SID di agenzia di entrate e riscossione potendo pagare la quota capitale e quindi togliendola quello che sono le sanzioni e gli interessi. Agenzia di entrate e riscossione è il nuovo nome per fare la faccia meno feroce ma poi feroce uguale perché inizialmente era la vecchia Equitalia che faceva paura, adesso dopo un po' fa paura agenzia di entrate e riscossione, cioè se l'avessero chiamata Pinco Pallino dopo un po' Pinco Pallino faceva venire. Esattamente, forse agenzia entrate per accumularlo a quello che è l'agenzia delle entrate, però di fatto è la vecchia Equitalia, anche le sedi, i luoghi sono sempre gli stessi e il loro ruolo è sempre quello di riscuotere dei debiti da parte dei contribuenti che non sono stati riscossi. Allora, partirei così, prima di entrare nel chi può fare che cosa, facciamo il contorno delle date perché non manca tanto tempo e quindi chi non ci ha pensato, non l'ha capito, non si è informato, è bene che ci ascolti con attenzione perché siamo vicini alla presentazione delle domande. Poi, una volta che la domanda è andata, almeno per qualche anno, finché dura questa, difficilmente si avrà accesso a un'altra operazione simile. Certamente, la data più importante da tenere presente è quella del 2 maggio, perché la scadenza per poter presentare telematicamente la richiesta di adesione a questa domanda, quindi di rottamazione Equater. C'è due settimane, è un martedì. Esatto, esatto, perché il 30 di aprile poi c'è il festivo, c'è la domenica e quindi è prorogata al 2 di maggio. Si consiglia sempre di non arrivare all'ultimo giorno perché poi ci possono essere magari problematiche, i siti, internet, queste cose che comunque sono ormai note. Quindi è sempre bene prepararsi per tempo per poter aderire a questa domanda. Chi la fa, la domanda, direttamente il contribuente all'agenzia di entrate e discussione, attraverso un professionista, qual è la strada più giusta? Allora, è possibile, il contribuente può farlo in autonomia entrando nel sito con le proprie credenziali, il sito di agenzia di entrate e discussione, attraverso Speed e poter aderire, insomma, seguendo tutti i passi. Oppure, naturalmente, rivolgersi al proprio professionista di fiducia che elaborerà la vostra situazione, perché ci possono essere anche situazioni un po' complesse, come vedremo, si possono fare magari più rottamazioni, ci sono tante cose che vanno approfondite, quindi valutate poi naturalmente qual è la vostra situazione. Allora, cominciamo a capire che cosa, diciamo, possiamo rottamare, no? Perché non tutto si può rottamare, però bisogna dire quasi tutto. Sono soltanto un paio le fattispecie non rottamabili. Quindi, peraltro, il governo ha scelto di arrivare fino all'ultima data possibile, quindi ha messo tutto dentro. Quindi, quando si fa la domanda, più o meno tutto quello che vi è successo negli ultimi anni, se non l'avete pagato, più o meno rientra in questa operazione. Fate salva alcune fattispecie. Facciamo il quadro. Allora, intanto, le cartelle esattoriali possono definire quelle dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Quindi, effettivamente, quasi tutto ormai perché... Era l'anno scorso. Esattamente. Tutto quello che è stato... che rientra al 30 giugno 2022. Sono definibili tutti quei ruoli di, non so, tasse, imposte, IVA e quant'altro, che magari, appunto, come abbiamo detto, sono stati importi, dichiarati, ma semplicemente non sono stati pagati dal contribuente. Non rientrano le sanzioni per seguito di condanne penali e le sanzioni a seguito di condanne della Corte dei Conti. Quindi, se per dire tu hai commutato la tua pena detentiva in 10.000 euro di multa, quella non la devi... Quella... no. Ecco, questa è, diciamo... La paghi o venga l'era. Questo per sottolineare che effettivamente è un... Sì, è una rottamazione, è un'agevolazione che si fa ai contribuenti, però ricordiamo che nella maggior parte dei casi sono imposte effettivamente dichiarate che magari il contribuente non è riuscito ad onorare e a pagare. Con regolare dichiarazione dei redditi e quant'altro. Esatto, quindi non è una questione di evasione. Se vi hanno condannato penalmente perché avete portato i soldi al... Non so, a Mauricio, se ne sa dove, quei soldi li li devono pagare. Pagate appena... C'è anche il tema del recupero degli aiuti di Stato, credo che non riguardi quasi nessuno di quelli che ci sta ascoltando, però se qualche azienda ha preso dei contributi di Stato per fare determinate operazioni, se deve restituirli... Perché magari li ha presi indebitamente, non può usufruire naturalmente della rottamazione. E poi anche nel caso in cui ci siano dei contributi previdenziali, di casse previdenziali che non hanno aderito alla rottamazione. Perché come sappiamo i professionisti hanno delle casse previdenziali, ognuno ha la propria, quindi i giornalisti, i consulenti del lavoro, i medici e quant'altro. Alcuni hanno aderito e altre casse no. Dovevano farlo entro il 31 di gennaio, quindi coloro che rientrano in queste casse professionali, che sono giornalisti, avvocati, biologi, ragionieri e veterinari, possono accedere alla rottamazione. I medici no, per esempio. I medici no, architetti, ingegneri, consulenti del lavoro, insomma. Ognuno vada a protestare dove deve andare. Però insomma queste, stiamo parlando in questo caso della previdenza sociale non pagata, perché magari se tu sei un professionista, libero professionista, l'Inps, diciamo, i contributi, i contributi che paghi da solo, non li hai versati, sono arrivati maggiorati con le sanzioni varie, perché non li hai versati nei tempi corretti, e ora puoi, se fai parte di queste categorie, rimediare pagando di fatto quello che avresti dovuto pagare. Esatto, quindi con l'agevolazione di non vedersi sommare le sanzioni e gli interessi, ecco che in genere sono sempre molto onerosi. Se io guadagno moltissimo denaro, e però ho delle cartelle esattoriali da rottamare, non posso farlo perché sono troppo ricco? C'è un limite? No, non c'è limite né di ISEE né di reddito, quindi a questa rottamazione possono aderire tutti i contribuenti, ancorché abbiano quelle determinate cartelle in agenzia delle entrate. A proposito di cartelle, da poco, anzi non si è ancora conclusa, perché si concluderà in realtà nel 2023, poi immagino che chi è impegnato in quella la concluderà per farla confluire, se sarà necessario, nella Quater, è ancora attiva la famosa rottamazione TER, che diciamolo funziona nello stesso modo, con altri tempi, quindi sono cartelle di tempi diversi, ma nello stesso modo rispetto alla Quater. Chi non è riuscito a pagare disperandosi quelle della rottamazione TER e quindi ha perso il beneficio della rottamazione, può rimettere dentro anche quelle? Sì, assolutamente, perché questa rottamazione prevede di far rientrare anche tutti coloro che non hanno potuto accedere alla rottamazione precedente, o che magari hanno fatto richiesta, ma per un motivo o per l'altro è decaduta la rottamazione, è possibile far rientrare tutto quanto. Anche coloro che hanno la rottamazione TER ancora in corsa e che quindi decidono di far confluire tutto nella Quater. Per i nostri amici che parcheggiano sempre in divieto o che vanno troppo veloci in autostrada e hanno ricevuto delle multe, delle violazioni del codice della strada e che non hanno pagato nei tempi corretti e che si sono moltiplicate nei prezzi, anche loro possono aderire alla rottamazione? Possono aderire alla rottamazione eliminando semplicemente gli interessi e quello che è la mora, diciamo. Ma la sanzione è come se fosse la quota capitale, quindi in quel caso è dovuta. È in ritardo, ma la paghi ovviamente come se fosse contorno. Esatto, in arate. Ecco, l'agevolazione non è solamente il fatto di poter pagare con un'agevolazione sulla sanzione degli interessi, ma anche il fatto di poter dilazionare in modo molto ampio quello che è il nostro debito presso l'Agenzia Entrata e Riscossi. Ecco, questo è il punto che non abbiamo ancora toccato, perché abbiamo detto che la cartella esattoriale è l'importo che dovevi allo Stato più un sacco di soldi extra di vari interessi di mora, penalità e cose del genere. La rottamazione questa cosa la toglie, quindi vai a ripagare ciò che dovevi in origine, però lo puoi fare in un'unica soluzione se è un importo che è ragionevole per le casse di ciascuno di noi, o altrimenti in quanto si può rateizzare. È possibile rateizzare in 18 rate, così suddivise le prime due rate nel 2023 con una quota pari al 10%, il 31 di luglio e il 30 novembre, e le altre 16 rate restanti nei successivi anni, quindi per un totale di 5 anni, quindi si arriva a fine 2027. Immaginiamo che uno abbia, non so, 5.000 euro di debito con lo Stato, le prime due rate paga 500, 501 e 500 l'altra, il resto è suddiviso in 16 rate, quindi 4.000 euro restanti in 16 rate trimestrali. Quindi 4 rate l'anno. 4 rate l'anno, esatto. E in 5 anni, compreso questo, si andrà a estinguere il proprio debito. Allora, facciamo un quadro. Le aziende che devono lavorare con lo Stato hanno bisogno del documento di regolarità contributiva, il famoso DURC. Il DURC ovviamente viene tolto a queste società, non viene attribuito alle società che sono in debito con lo Stato. Aderendo alla rottamazione, il DURC viene restituito? Si potrà richiedere? Si potrà richiedere subito, verrà emesso nel momento in cui si accede alla rottamazione, naturalmente se non hanno altri debiti fuori rottamazione, che quindi ancora devono saldare. Ma la possibilità è quella, senz'altro, di richiederlo. Abbastanza improbabile, visto che fino al 30 giugno l'anno scorso... Magari mancano dei contributi correnti, non so, i contributi da lavoro dipendente, succede che il datore di lavoro non ha pagato gli ultimi mesi, naturalmente per avere il DURC deve mettersi in regola anche su quelli. Però tutto quello che è l'arretrato, diciamo la parte un po' decotta che si è andata ad accumulare, facendo la richiesta di adesione, quindi nel momento in cui l'agenzia entrata e riscossione ci scrive, sarà possibile richiederlo. L'abbiamo visto tante volte, il DURC è quel documento di regolarità contributiva che permette alle aziende di poter accedere ai lavori, a fare tante cose che senza quello comunque non potrebbe fare. Non potrebbe fare. Ipoteche, fermi amministrativi sui veicoli, tutte queste cose che ovviamente poi creano disagio a chi è rimasto inarretrato col fisco, vengono rimossi oppure no? Allora, secondo le istruzioni dell'agenzia entrata e riscossione, rimangono in essere nel momento in cui si fa la domanda, poi andrebbe poi valutato caso per caso, ecco probabilmente teniamo conto che magari l'iscrizione di un fermo amministrativo può essere non su tutte le cartelle che sono giacenti, ma magari solo su una parte. Quindi bisogna fare un po' di ragionamenti per poter sistemare la situazione al meglio. Ognuno poi ha la propria. Sì, questo non c'è dubbio. Poi saranno anche i vostri professionisti o la stessa agenziale di entrate che vi darà le indicazioni del caso, anche perché come diceva prima la dottoressa Paglialunga si potrebbe eventualmente rottamare magari a pezzi, e quindi ciò che fa parte di quel fermo amministrativo lo si può rottomare tutto insieme in una volta, invece il resto sono cose che vanno ovviamente valutate impossibili da dire alla televisione. Il 31 luglio scadrà la prima rata di questa nuova rottamazione ed è un lunedì. Immaginiamoci che io lunedì quel giorno non voglio dare i soldi allo Stato perché mi sento male e voglio darli il giorno dopo. Ho perso il diritto alla rottamazione? Allora, il diritto alla rottamazione si perde se per una rata si superano i 5 giorni di ritardo, quindi mi raccomando non fate scadere perché è un'opportunità, quindi vale la pena di rispettare le scadenze. Oltretutto quando l'agenzia di entrate in discussione ci manda il prospetto che ci scriverà entro il 30 giugno, ci arriverà anche il modulo con le istruzioni per scegliere il modo di pagare, quindi probabilmente si potrà pagare con il MAV come nelle vecchie rottamazioni oppure si può scegliere la domiciliazione in banca. Quindi fate molta attenzione a non far decadere questa rottamazione perché sarebbe proprio un peccato. Non torna, non torna. Ho sentito dire però, questa è una cosa interessante soprattutto per i piccolissimi contribuenti irregolari, quelli che hanno delle cartelle piccole, la multa, che sotto i 1000 euro, che non è proprio pochissimo, la cartella viene automaticamente azzerata. Quello sarebbe un bel regalo. È così? È così però, attenzione, solo fino alle cartelle al 31-12-2015. Ok. Quindi le scadenze sono diverse. La rottamazione... 7, 8, 9, 20, 21, 7, 8 anni fa... Diciamo che magari sono cartelle che sono talmente vecchie che per un motivo o per l'altro l'agenzia delle entrate ha più difficoltà magari anche a riscuotere. Allora anche loro hanno interesse a fare una sorta di pulizia d'archivi, chiamiamolo così, per sistemare perché sappiamo che c'è una cifra enorme di crediti inesigibili che comunque rimangono lì. È un beneficio comunque per il contribuente che magari ha qualcosa di vecchio, insomma, giacente, però solo quelle quindi fino al 31-12-2015. Ok. E va bene, questo poi lo fa direttamente l'agenzia delle entrate. Sì, esatto. Andate lì e non c'è da pagare. Non c'è da fare domanda in questo caso. Non ci sono più. L'agenzia delle entrate si prende... Riscossioni. Si prende il tempo fino al 30 di aprile per fare questo lavoro, quindi coincide col tempo della presentazione della domanda. Anche perché a 2 maggio poi uno deve presentare la domanda. Esatto. Certo, se loro lo fanno il 30 aprile, però si possono presentare le domande anche prima e poi saranno loro a ricalcolare. Sì, sì, le domande si possono presentare già assolutamente in questi giorni. Oggi, domani. Si possono inserire nella domanda di adesione queste cartelle perché non c'è scritto se sono rottamabili, quindi spesso magari noi non lo sappiamo se una di quelle cartelle è oggetto dell'annullamento automatico, quindi si inseriscono dentro e poi Equitalia, diciamo, le toglierà in automatico. Troverete la sorpresa positiva che l'importo che pensavate per pagare sarà un po' più basso. Esattamente. Cosa sono gli avvisi bonari e perché entrano in gioco in questa rottamazione? Perché gli avvisi bonari fanno parte anche loro di quello che è la pace fiscale del pacchetto che è stato varato. Gli avvisi bonari sono semplicemente un documento che viene inviato, in questo caso dall'Agenzia delle Entrate al contribuente, perché non ha pagato un determinato debito. Prima di andare in cartella esattoriale viene emesso proprio l'avviso bonario. In questo caso c'è la possibilità di ricalcolare quelli che sono già in essere, perché anche l'avviso bonario è rateizzabile, quindi colui che ha un avviso bonario che sta già pagando le rate trimestrali ha la possibilità di rifare il calcolo e di avere le sanzioni agevolate dal 10 al 3%. Quindi anche questo è comunque un piccolo vantaggio. Posso garantire che le rateizzazioni degli avvisi bonari sono davvero tanti. Spesso è l'IVA, l'IRPF, tante piccole o grandi cose che effettivamente messe tutte assieme. Insomma, sono un debito che si cerca di evitare di far andare in equità. Non potete non aver capito. Vi abbiamo spiegato tutto, l'ho capito persino io e questa è già una notizia. 30 aprile, fate la domanda entro il 2 maggio, quindi 30 aprile poi sono le feste, quindi fatela adesso. Se avete il sentore che c'è qualcosa nei vostri cassetti fiscali che male odora, andate a sistemare l'occasione, fatelo assolutamente e così magari daremo un po' di contributo allo Stato recuperando un po' di soldi che per ora non si erano mai recuperati e voi avrete l'opportunità di sistemare delle pendenze che magari non vi fanno dormire la notte e Sonia Paglialunga, grazie. Grazie, grazie mille.